Un convegno in occasione del cinquantenario della rivista Rassegna Parlamentare per riflettere sull'istituzione parlamentare e sulla sua capacità di interpretare pienamente le esigenze della società italiana. L'Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, ISLE, ha organizzato nella Sala della Lupa di Montecitorio il Parlamento Italiano tra Passato e Futuro, un'iniziativa che si propone di coniugare il presente con il passato e di riflettere sulle dinamiche e sulle trasformazioni della massima istituzione rappresentativa del Paese. Il Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, e il Presidente del Senato, Renato Schifani, hanno portato un indirizzo di saluto. La relazione introduttiva è stata denuta da Giuliano Amato. Sono intervenuti Giovanni Pieraccini e Silvio Traversa, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell'ISLE.